C'è Luca Di Renzo del Roma City, il capocannoniere del Girone F. Avete messo in difficoltà il campo basso. Sì, è stata una partita molto combattuta. Sappiamo di incontrare una squadra forte, se non una forse la più forte del campionato. E niente, è andata male, però sono fiero dei miei compagni che abbiamo dato tutto in campo. Con un pizzico più di fortuna magari la potevamo pareggiare. O anche vincerlo. Per svegliarvi avete dovuto prendere due gol? Abbiamo preso il primo tiro. C'è stata anche la bravura di Maldonado che ha fatto un gol all'incrocio dei pali dopo un minuto. Poi il secondo gol è pure un cross, dovevamo stare più attenti. Alla fine le occasioni le abbiamo avute anche noi, le hanno concessi anche loro. Però loro le hanno fatti due e noi uno. Il tuo palo di tacco da praticamente da zero metri? Sì, ho provato a girare la di tacco perché era l'unico modo, è andata sul palo purtroppo. Avrei voluto segnare volentieri. Ci scommettiamo che avresti voluto segnare. Di Renzo, 15 gol in 21 partite, sono tanti. Un buon biglietto da visita per il salto di categoria? Adesso ho 33 anni, quindi ormai sono sempre stato in D, quindi sarebbe bello fare la C. Non hai mai giocato in C? Ho giocato un anno, però è andata male. Quindi ormai ho un'età che sono di categoria. Però sarebbe bello fare la C, provare un anno. Sì, di categoria, abbiamo visto anche i numeri degli altri anni, comunque garantisce un numero congruo di reti ogni anno. Anche al Vado o al Latina, insomma, hai il gol nel sangue. Sì, per fortuna sta andando bene. Ho fatto parecchi gol, dai. Il campo basso come l'hai visto? Il campo basso è una squadra forte, difesa forte, sono messi bene in campo, sanno leggere la partita, sanno aspettare, sanno quando accelerare. È una squadra forte, dai, non lo nego. Diciamo, forse potresti cercare una piazza più stimolante, con tutto il rispetto per il Roma City, insomma, che tifosi non è ASOS. Siamo venuti all'andata, a Riano non c'era praticamente nessuno, con tutto il rispetto per la società. È una società nuova, il presidente però non ci fa mancare nulla, al di là dei tifosi, che sì, è il bello del calcio, bellissimo giocare davanti a una curva così. Però ringrazio, sono felicissimo di stare in una società come la nostra, perché è una società che non ci fa mancare niente e ci tratta come dei professionisti, anche se siamo in Serie D.